Frutticoltori della provincia di Verona, buongiorno e ben ritrovati al consueto notiziario frutticolo del 28 giugno 2024. Un saluto come sempre dalla IPOP e dalla Col di Retti di Verona. Pesco, fase fenologica, ingrossamento del frutto, inizio raccolta per le varietà Big Top, Nagiri, Royal Glory e le precoci piatte Platicarpe. Cidia, molesta. Continua il volo, le ovide posizioni e nascite delle larve. Se superata la soglia di 10 catture settimana o se si osservano dei sintomi a carico degli apici dei germogli, intervenire con un insetticida ad azione larvicida. Anarsia, lineatella. Tra poco inizia il volo. La situazione va controllata con apposite trappole. Cimice, asiatica. Danni evidenti e diffusi sui frutti. Adottare misure di contenimento con i totem. Forficula, sempre presente. Continuare il controllo e verificare la presenza. Effettuare un trattamento notturno con Lambda-Cialutrina. Si ricorda che anche altre molecole insetticide, tipo lo spinosat e il piretroidi, utilizzate contro altri target, hanno un'azione collaterale nei confronti delle forficula. Moniglia. Condizioni climatiche favorevoli alle infezioni. Si ricorda, per i nostri reali, l'importanza dei trattamenti pre-raccolta. 14-10 giorni prima della raccolta, eventualmente ripetuti dopo una settimana. Porre sempre attenzione al rispetto dei tempi di carenza e alla rotazione dei fungicidi in base al loro meccanismo di azione. Vediamo ora il susino. Fase fenologica. Ingrossamento dei frutti. Cidia funebrana. È in atto il secondo volo monitorare la presenza delle eventuali catture nelle trappole, che per ora rimane molto sotto la soglia di intervento. Melo. Fase fenologica. Ingrossamento del frutto. Ticchiolatura. Sintomi più diffusi del previsto con situazioni climatiche favorevoli alle infezioni, che, data l'elevata sensibilità, possono interessare anche solo il frutticino. Continuare la difesa con sostanze attive ad azione preventiva. Oidio. L'andamento climatico favorevole al patogeno, anche se la sensibilità della cultura è in calo. Continuare la strategia di difesa con zolfo o bicarbonato di potassio. Ervinia amilovora. Sintomi su alcuni fruttetti. Continuare il controllo, eventualmente asportare la vegetazione colpita, tagliando a circa mezzo metro sotto il punto di inizio infezione. E trattare con fosfetil, alluminio, acibenzolar, esmetile o lama inarina, sali di rame o BCA. Carpocapsa. Inizio del secondo volo. I controlli sulle culture consigliano un ovilarvicida o larvicida a fine settimana. Euglia. Presenze sempre più diffuse, con presenze di ovide posizioni e nascite di larve. È il momento per applicare un ovo larvicida. Efficace è pure il bacillus thuringensis. Affi dell'anigero. Si è conclusa la fase di migrazione. Un contenimento grazie a una discreta presenza del parassito ide. Affilumulus mali. Situazione un po' più complessa sul biologico. Vediamo ora il pero. Fase fenologica. Accrescimento dei frutti. Si trovano già diametri che superano i 60 mm. Psilla. Aumento del parassita e delle produzioni di melata su foglie. Intervenire in caso di necessità con Bicarbonato di potassio. Olio minerale estivo. Da porre attenzione all'effetto fitotossico se in presenza di Capitano, Fluazima o Zolfo. Cimice asiatica. Danni da cimice riscontrabili in tutte le varietà di pero. Anche se varia molto dalla zona di produzione. In caso di necessità intervenire con Acetamiprid la mattina presto e con alti volumi di acqua. Carpocapsa. Inizio del secondo volo. I controlli sulle catture consigliano un Ovilarvicida o Larvicida a fine settimana. Ticchiolatura. Continuare la difesa su William e Santa Maria con Capitano o Bicarbonato di potassio. Macolatura. Continua la difesa sulle varietà sensibili con Fluodoxidil in miscela con Festil Alluminio. Mefentri Fuconazolo in miscela con prodotti di copertura come il Capitano. Ervinia amilovora. Mantenere il controllo. Eventualmente asportare la vegetazione colpita tagliando a circa mezzo metro sotto il punto di inizio infezione. E trattare con Fosetil Alluminio, Acibenzolar S-Metil o Laminarina, Sali di rame o BCA. Actinidia. Fase fenologica. Accrescimento dei frutti. Nelle varietà gialle hanno superato i 100 grammi. Prosegue il diradamento dei frutti avar deformati per la cattiva impollinazione e da eventuali punture di miridi. Cimice asiatica. Presenza di danni. Eventualmente intervenire con Delta Metrina. Passiamo ora al noce. Fase fenologica. Accrescimento del frutto che ha già raggiunto la dimensione finale. Batteriosi. Sintomi di infezione soprattutto sulla varietà Chandler. Se necessario intervenire con trattamento a base di rame. Cimice asiatica. Presenza in aumento. In caso di presenza intervenire con acetamipride. Cidia pomonella sta iniziando la seconda generazione. Ed ora passiamo al consueto commento sulla cimice asiatica. Le catture di adulti hanno registrato un forte divario tra la popolazione del nord a Pesco Chiwi e del sud a Melo Pero. Con popolazioni di adulti che al sud sono più del triplo. 23 contro 7 per trappola. I giovani stanno progressivamente salendo e a nord sono 8 per trappola con una frequenza di trappole con almeno una cattura pari al 50%. Mentre a sud la frequenza è del 67%. Se guardiamo la media generale dall'inizio del monitoraggio, al nord si sono catturati in media 10 adulti trappola contro i 20 del sud. Siamo nella fase di espansione della prima generazione estiva. E la presenza di giovani determina un progressivo espandersi delle punture di nutrizione sui frutti. Sono state già segnalate da tempo ovature parassitizzate dalla Vespa Samurai. Ed è in corso la verifica da parte dell'Università di Padova e della Regione Veneto dell'espansione del parassitoide lanciato in questi ultimi 4 anni. È necessario continuare a monitorare il proprio frutteto e se necessario intervenire con abbattenti piretroidi o neodicotinoidi registrati in accordo con il proprio tecnico aziendale. In caso di trattamenti si raccomanda di utilizzare volumi di acqua adeguati ad una abbondante bagnatura fogliare, tenendo presente che l'azione principale è di contatto sia diretto che indiretto. Bene, siamo giunti anche oggi al chiudersi di questo notiziario frutticolo. Ci vedremo la prossima settimana.